Hai qualcosa da dire? Sì. 13 streghe sono state impiccate dai cacciatori di streghe. Quelle donne non avrebbero mai immaginato che questo potesse succedere qui all'Accademia. Una scuola dove si sentivano al sicuro. E anche se l'avessero immaginato, non avrebbero mai creduto che le streghe dell'Accademia si sarebbero rivoltate contro di loro. Ed è per questo. Che la terribile tradizione dell'Inquisizione finisce stasera. Prudence. Siamo tre contro una. Stasera morirai, mezzo sangue. Salutaci il Signore Oscuro, d'accordo? Leggero come una piuma, rigido come una tavola. 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 Come ti ho detto, le torture in questa scuola non saranno mai più tollerate. Sono stata chiara? Leggero come una piuma, rigido come una tavola. Leggero come una piuma. È tutto chiaro. Non provare mai più a usare mia madre o mio padre contro di me. Mai più. O ti soffocherò a morte nel tuo stesso sangue. Non provare mai più a usare mia madre o mio padre contro di me.